Il cuore di Marilena Brudaglio ha smesso di battere in una stanza del bonomo di Andrea poche ore dopo essere stata investita mentre faceva jogging lungo la strada che della città federiciana porta a Castel del Monte. Si stava allenando come ogni mattina quando è stata investita da un SUV che l'ha completamente travolta. È stato lo stesso conducente dell'auto, un uomo di 76 anni, a chiamare i soccorsi. L'uomo ha atteso l'arrivo dell'ambulanza che ha trasportato la donna in condizioni disperate in ospedale, dove però è deceduta nonostante il tentativo disperato di rianimarla. I medici non sono riusciti a salvarle la vita in ospedale e è arrivata già in arresto cardiocircolatorio e con un trauma cranico. Marilena era un'appassionata di atletica e molto conosciuta nell'ambito podistico pugliese. Solo ieri aveva partecipato alla seconda tappa della Corripuglia a Canosa, dove è arrivata quarta tra altri 800 runners. Secondo alcune indiscrezioni non si sarebbe fermata alla premiazione perché l'aspettavano a casa per il pranzo dominicale. Lascia il marito e tre figlie, avrebbe compiuto 47 anni il prossimo 17 maggio. Adesso sono in corso indagini da parte dei carabinieri per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e la posizione del conducente del SUV.